Adesso siamo arrivati al gran finale, come vi dicevo, dopo aver visto 61 tra imprenditori e dipendenti, premi speciali allo sport, alla cultura, al sociale e alla memoria, è il momento del Domus Mercatorum. Il Domus Mercatorum è un premio che è nato un po' dopo rispetto alla fedeltà al lavoro, quindi ha un po' meno di 40 edizioni, veniva dato in maniera biennale, nasce nel 1968 e tutto il fiorfiore dell'imprenditoria veronese è stato premiato. Io ne cito solo qualcuno, anche perché dovremmo averli in sala. Cito, e possiamo scorrere quindi le slide, Apollinare Veronesi, nonno di Mario che abbiamo visto prima. Cito, e lo vedo là, in Mario Tacchella, premio Domus Mercatorum 1989. Forse c'è, non l'ho avvistato, ma dovrebbe esserci, Giorgio Morini, premio nel 2009. Ci sono le figlie di Luigino Bertolaso, premio Domus nel 2013. C'è in seconda fila, premio Domus Mercatorum 2014, Pilade Riello. Dovrebbe esserci, forse non lo vedo in questo momento, 2015, premio Paolo Bedoni. L'anno scorso ci fu una scelta innovativa da parte della Giunta Camerale che non andò a premiare un singolo imprenditore, ma un'impresa che ha fatto la storia di Verona e venne premiato infatti il giornale L'Arena. E quest'anno chi mai sarà il premio Domus Mercatorum lo scopriamo con un filmato buio in sala. Il successo dell'industria sociale dell'alcolle non è nata per caso. È il frutto di una passione condivisa da generazioni in generazioni che ha portato alla continua ricerca e selezione delle materie prime con una costante attenzione alla produzione. La nostra storia risale al 1896 quando mio nonno Gidio aprì il suo laboratorio artigianale a Cello Arredillarsi. Nel 1925 a Milano mio nonno è stato proclamato vincitore della medaglia d'oro per la miglior panificazione e da lì iniziò a trasmettere tutti i suoi segreti del bestiere a suo figlio Ettore mio papà. Con il passaggio dalla prima alla seconda generazione il laboratorio di mio papà si è ingrandito iniziando la produzione del pandoro e del panetone. Io sono entrato in azienda a 16 anni a fianco a mio papà. Il mio sogno era quello di trasformare quella piccola realtà in industria così all'età di 21 anni mio papà mi ha consegnato le chiavi del laboratorio ed io ho iniziato a creare la mia fabbrica. La produzione è costantemente aumentata a Cello dei Darsi, il laboratorio ormai era troppo piccolo così negli anni 70 ho deciso di acquistare un terreno vicino alla nuova autostrada Milano-Venezia nel quale ho costruito l'attuale industria gocciaria d'alcolle. Intorno agli anni 90 sono entrati in azienda i miei figli Beatrice Dalvise e così come mio padre con me io ho avuto il piacere di lavorare con i miei figli per molti anni facendo crescere l'azienda, tanto che oggi portiamo 8 linee di produzione e clienti in tutto il mondo. Quando ho constatato che la quarta generazione ormai era pronta per gettire l'industria modernamente ho consegnato a loro le chiavi e gli erediti dell'azienda così avendo più tempo libero ho iniziato a dedicarmi alla mia passione per la terra, il vino e i vigliati. In collaborazione con le cantine Pasqua ho creato il Valpolicella e Amarone Mai Dire Mai il quale sta avendo un grande successo soprattutto all'estero. e come si dice nella vita mai dire mai. Invito a salire sul palco Egidio Dalcolle premio Domus Mercatorum 2018 il presidente Riello, tutta la giunta, il segretario generale al centro Egidio Dalcolle del presidente e intorno tutti gli altri e mentre tutti si accomodano leggo la motivazione per aver saputo portare avanti con slancio, lavoro di squadra e fiducia nelle nuove generazioni l'attività di famiglia nel settore dolciario iniziata dal nonno in un piccolo laboratorio artigianale di Cellore di Lasi nel 1896 ancora oggi contraddistinta dalla ricerca della qualità e dal rispetto della tradizione dell'arte pasticcera italiana. E l'avventura non finisce qui passate le eredini della Dalcolle ai figli ora è la passione per la terra, i vigneti ed il vino ad occupare le sue giornate perché l'abbiamo sentito come ama dire nella vita mai dire mai ancora complimenti a Egidio Dalcolle e noi vorremmo che a questa festa si unissero e l'invito a salire sul palco anche Beatrice ed Alvise quindi la generazione che sta proseguendo Beatrice Dalcolle e Alvise Dalcolle e direi che possono mettersi a fianco del presidente e del papà Egidio tutti e quattro congratulazioni grazie a tutti sono un po' emozionato ho visto tutta questa organizzazione bene allora ringrazio il presidente Riello sono in dovere di ringraziare anche la commissione della Camera di Commercio che ha pensato a me non me l'aspettavo proprio quindi sono molto orgoglioso e onorato di ricevere questo importante premio e due parole sulla dienda dico tutto questo non sarebbe nata l'industria dolciarita del Colle se mio papà non avesse creduto nel mio sogno che era quello di trasferire da un piccolo laboratorio di a cellore di Dasi di pasticceria trasferire l'azienda in coloniola ai Colli che attualmente c'è la sede lungo l'autostrada come dicevo quindi adesso sono altrettanto soddisfatto di passare di aver passato la mano ai miei figli Beatrice e Dalvise e quindi sono anche felice di questo in quanto loro si stanno molto dedicando all'azienda come mi sono dedicato io in passato e devo dire con successo in quanto i risultati sono buoni e e speriamo sempre in mezzo quindi crediamo tutti di far crescere ancora ulteriormente l'azienda grazie molto e presente tutti quanti grazie ma io volevo solo dire che grazie a famiglie come la vostra che la nostra Verona è famosa nel mondo e soprattutto l'Italia può contare nomi prestigiosi come il vostro e come quelli di tante altre famiglie che hanno reso importante la nostra nazione di fronte ai panorami mondiali grazie tantissimo grazie e tra l'altro mi dicono che in sala non lo vedo in questo momento c'è anche il sindaco di Cologno Claudio Calcereri De Prati che quindi prego che invitiamo ad unirsi quindi nella fotografia per Egidio d'Ai Colle prego anche perché in questo periodo insomma è giusto essere presenti in questo periodo vero sindaco prego giriamoci un attimo così il fotografo riesce grazie a tutti grazie bene vi invito quindi a scendere da questa parte o dall'altra parte grazie 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 grazie